La locanda di Filippo è a San Vito Taranto, via Leionio 355. Siamo con il titolare, il direttore di questa struttura, Filippo Scorza. Beh, una realtà davvero bella, una realtà nuova. Il freddo inverno è scaldato dal caldo di questa locanda. Sì, grazie, benvenuti a tutti. Salve, io sono Filippo, per chi non mi conosce. Abbiamo voluto creare un nome storico, quello del Monvida, quello di Filippo Pizza e Cozze, insomma, è arcinoto. Sì, un nome storico che segue un brand appunto della struttura che è il Monvida, che sono 12 anni di attività ad oggi. Abbiamo voluto creare questo brand invernale per accogliervi in casa mia, che poi sarebbe casa mia. Nella tua locanda. Sì, bravissima. Nella mia locanda, perché alla fine è casa vostra, oltre che casa mia. Ecco, Filippo, proprio l'atmosfera è familiare, è accogliente. Sì, sì. Quest'inverno riusciremo a dare una carezza al cliente, quella che non riusciamo magari a dare l'estate, per il numero di clienti che abbiamo, di amici che ci vengano a trovare. Quest'inverno, come potete vedere, è una vera e propria casa, oltre che locanda. Quindi siete benvenuti tutti. Cucina casereccia, piatti tipici della nostra tradizione pugliese, ma anche tanta buona musica, divertentismo, delle serate all'insegna del divertimento e della buona cucina. Sì, sì, sì. Appunto, a volte il futuro, secondo me, è il tornare indietro, appunto. Quindi fare qualche passo indietro è una tradizione. Quindi fave e foglie, legumi cotte nel caminetto. Dare il senso di casa e sentirsi accolti in una realtà diversa dagli altri, perché qui sarete a casa sempre. Sottolino casa, perché è quello che vorrei riuscire a trasportare al cliente. Delle luci calde, soffuse, il camino, una libreria, sembra di essere ritornati, chissà, cento anni fa in un clima da favola. Vero, vero. Anche perché ho clienti che addirittura mi vengono a lasciare dei libri e ne prendono altri. Quindi il senso è realmente il sentire cliente partecipi in prima linea di questo nuovo progetto. In quali giorni siete aperti? Siamo aperti al momento dal mercoledì al sabato sera e la domenica pranzo e durante tutti i giorni c'è sempre un menù fisso. Quindi la cosa ideale sarebbe fare una chiamata perché abbiamo soltanto 35 sedie per scelta. Vi volete dedicare al cliente, anzi ai 35 clienti, li volete coccolare? Sì, sono 35 sedie e tutte 35 diverse. E vi dico pura verità, cioè parte delle sedie e dei tavoli sono di casa mia, di casa di mia madre, di casa di mia zia, perché ognuno di noi ha collaborato realmente in questo progetto, ma realmente per farvi sentire a casa. Con una conduzione familiare. Una condizione familiare sì, poi abbiamo la nostra cuoca storica che ormai ci segue da ben 5-6 anni e in più mia madre, mio padre, io, cioè siamo realmente una famiglia perché anche il cliente quando arriva a sedersi da noi diventa un familiare. Bene, le famiglie di quelle buone però eh. Bene, allora che altro dire, la locanda di Filippo vi aspetta, sarete a casa vostra. Grazie, vi aspettiamo numerosi come sempre e grazie ancora e una buona giornata e buona serata.